GF VIP, Giulia dopo l'eliminazione torna sui social, messaggi per Silvia ma non per Gollini Giulia provvedi dopo l'eliminazione di ieri sera al GF VIP è tornata attiva sui social, tanti messaggi per la sorella, ma niente per il fidanzato. La puntata di ieri sera 26 novembre del Grande Fratello VIP 2018 ha mostrato al pubblico da casa tantissimi colpi di scena, come ad esempio l'entrata della madre di Giulia Salemi e l'eliminazione a sorpresa di Giulia provvedi contro Benedetta Mazza. Tuttavia, la cosa che ha destato più scalpore sul mondo del web è stato il comportamento della provvedi bionda dopo che è tornata attiva sul suo profilo social di Instagram. Quest'ultima infatti ha iniziato ad inondare di stories per supportare la vittoria della sorella in questa terza edizione del Grande Fratello VIP, ma non ha dedicato nemmeno un posto o mezza stories per la storia d'amore con il fidanzato Pierluigi Gollini. Come mai? Il rapporto tra loro due dopo quell'episodio del possibile tradimento si sarà inclinato? Grande Fratello VIP 2018, Giulia provvedi torna attiva su Instagram per supportare la sorella Silvia. Come anticipato nel paragrafo sovrastante, Giulia provvedi nella tredicesima puntata del Grande Fratello VIP è stata sconfitta al televoto da Benedetta Mazza. Proprio per questo motivo la gemella bionda ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia con Silvia in lacrime. Tuttavia, Giulia, da oggi ha iniziato a mandare moltissime stories per supportare la sorella Silvia all'interno della casa, io sono sempre con te amore mio, forza cucciola, destando però molti dubbi sul suo rapporto con il fidanzato calciatore Pierluigi Gollini. Si sono lasciati dopo il presunto tradimento del calciatore quando Giulia era rinchiusa nella casa del GF VIP? Giulia provvedi? Nessuna dedica sui social per il fidanzato Pierluigi Gollini. È da ormai un giorno che Giulia provvedi ha dovuto abbandonare la casa del GF VIP 3, video, ma purtroppo per il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini non sono arrivati messaggi da parte della gemella bionda della Provedi. Come mai? Giulia vorrà magari prima chiarire del tutto la faccenda del tradimento prima di tornare a pubblicare vicende legate al fidanzato? Per ora difficile dirlo, visto che gli unici pensieri che sembra abbia Giulia provvedi sono le vicende della sorella Silvia. Infatti quest'ultima tramite il suo profilo ufficiale di Instagram continua a supportare la sorella chiedendo al pubblico di farla trionfare in questa terza edizione del reality show del grande fratello VIP. Secondo voi Silvia riuscirà a vincere questa nuova edizione del GF VIP?. Secondo voi Silvia riuscirà a vincere questa nuova edizione del GF VIP.